Un uomo di 45 anni di Niscemi è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di spaccio di stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di marijuana e hashish. Nei giorni scorsi i militari della stazione di Niscemi hanno eseguito una perquisizione in casa dell'indagato, già noto alle forze dell'ordine, alla ricerca di armi. Nel corso dell'accertamento però gli investigatori, invece di scoprire armi, hanno trovato gli stupefacenti. Nel dettaglio si trattava di 100 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish, quantità sufficiente per far scattare l'arresto. Subito dopo il 45enne è comparso davanti al jeep del tribunale di Gela, che ha disposto gli arresti domiciliari come chiesto dalla procura della città del Golfo.